Ciao dalle cantine guffanti, oggi parliamo di Comte, una dei grandi AOP, DOP francesi. È uno dei formaggi esteri, l'unico da un certo punto di vista, che stagioniamo nella nostra cantina. Formaggio straordinario, latte vaccino intero, crudo, animali che nell'area di produzione della DOP appunto pascolano praticamente quasi 11 mesi all'anno. L'animale che viene utilizzato è una vacca razza Montbeillard, un animale molto forte, molto robusto, non ha problemi a pascolare anche durante temporali, brutto tempo, in temperi e freddo. Quindi un animale che pascola, ripeto, quasi 11 mesi all'anno. Formaggio straordinario, sia per fare delle lavorazioni di cucina, eccezionale per fare delle fondute, è un formaggio eccezionale anche dal punto di vista della ecletticità nell'inserimento in una degustazione. Questo è il nostro gigante, adesso lo tagliamo. Un formaggio straordinario, una pasta che già al taglio si capisce essere perfetta. Il casaro ha lavorato bene, Gufanti probabilmente ha fatto la sua parte in cantina. Un colpo ancora e il formaggio è aperto. Sua maestà il contè, oltre 36 mesi di stagionatura, un formaggio, lo vedete, giallo paglierino, animale che ha pascolato. Un formaggio straordinario, una pasta straordinaria, colore paglierino, che evidenzia l'alimentazione dell'animale al pascolo. Formaggio pronto per essere utilizzato sia in cucina che in degustazione. Non dovete far altro che venire in cantina per provarlo.